buonasera ciao a tutti benvenuti a distanti di badminton alla ben sessantunesima puntata allora se vi ricordate due venerdì fa abbiamo visto l'esercizio con il triangolo quindi con il giocatore che si muoveva disegnando una sorta di triangolo quindi dal fondo campo andava verso la rete dalla rete tornava a fondo campo dal fondo campo tornava la rete e viceversa rivediamo un attimo con il campo disegnato vi lo condivido quindi se vi ricordate era un po questa la traiettoria del movimento che effettuava il giocatore quindi immaginiamo ecco un feeder qui un giocatore azzurro un feeder qui e un giocatore qui e questo era un po lo scambio quindi il giocatore arancione che giocava un drop ok giocatore azzurro rispondeva con un net il giocatore arancione con un altro net ovviamente nel frattempo il giocatore arancione si avrebbe spostato qui e il giocatore azzurro rialzava qui e faceva ripartire di nuovo lo scambio con un altro drop del giocatore arancione e quindi un net di nuovo un net di nuovo un altro lift comunque se vedete il giocatore arancione si muoveva diciamo da questa zona ok a questa zona ok a questa zona centrale perché poi i net venivano comunque giocati o qui ok piuttosto che che qui quindi abbastanza una zona centrale e quindi appunto l'esercizio chiamato un po triangolo è perché è un po questa il movimento che esegue il giocatore e quindi se vi ricordate l'altra volta abbiamo visto tanto pulisco il campo abbiamo visto questo esercizio con il giocatore arancione appunto che giocava il drop dal fondo campo e arrivando a rete il net e abbiamo fatto anche delle delle possibili delle possibili variazioni come possiamo questo esercizio integrarlo con altre variazioni con altri colpi ok ma soprattutto con anche con progressioni diverse o comunque con un metodo una via che poi spinga il giocatore a seguire bene questo questo esercizio che è un esercizio assolutamente stradi base del badminton ma ripeto se vogliamo giocatori che sappiano poi giocare bene in futuro devono saper bene fare la base e i drop ad esempio il giocatore fa in questo esercizio e i net sono colpi di base come anche i colpi che faceva il filler il net e il lift ok allora andiamo a vedere quindi la variazione beh ve la propongo vado a condividerla eccola qua perfetto quindi abbiamo sempre il nostro campo il nostro campo la badminton e vediamo la giocatrice che in questo caso parte sempre con il drop di nuovo con il drop levo un attimo l'audio così non posso parlarci sopra ok perfetto quindi vedete servizio drop della giocatrice che va a rete ma questa volta non gioca un net ma gioca uno spin ecco se vedete il volano viene tagliato poi ci sono due net che io chiamo di rimando che sono fatti apposta per far sì che lo scambio non cada che il volano non cada che lo scambio non venga interrotto e si possa riprendere con i due colpi successivi cioè il drop e lo spin di nuovo della giocatrice quindi la giocatrice in questo caso adesso si sposta sull'altro lato sempre andare a disegnare questo ipotetico triangolo e va nuovamente a giocare drop e spin in questo caso poi dal lato di diritto faccio andare il video senza parlare adesso lo rimetto da capo quindi eccolo qui servizio drop net spin e net net lift di nuovo drop net spin net net e si riparte drop net spin net net e si riparte il mio telefono che parla ed è venuto bene l'esercizio faccio rivedere un attimino questo ok se vedete la giocatrice quando arriva sul lato del rovescio gioca uno spin verso fuori riguardate la racchetta della giocatrice fateci caso alla testa della racchetta vedete la racchetta compie questa corsa diciamo andando a puntare verso l'esterno della rete verso il paletto viene detto spin verso fuori se invece lo spin viene fatto con la testa della racchetta che punta diciamo verso il centro della rete o verso il paletto opposto viene detto spin verso dentro la stessa cosa sull'altro lato vedete che la giocatrice arriva a rete e con un piccolo movimento taglia il volano sotto il sugono e la racchetta diciamo va a puntare verso il paletto esterno verso il paletto destro del campo se invece lo spin fosse fatto con la racchetta che va a ruotare sotto il volano e quindi a puntare verso il palo sinistro viene detto spin verso dentro vediamo ancora una volta il video quindi servizio drop net spin net net di rimando si riparte lift drop net 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 di rimando si rialza con il lift drop net spin net net lift drop net spin net net in questo caso l'esercizio termina ecco voglio farvi notare se ci fate caso intanto ripeto bambina principiante a rete è bassa vedete che la rete è mantenuta ben più bassa dell'altezza massima del paletto con un 55 qui ci sono circa 15 cm quindi più o meno questa rete alta è 1,40 e come ho detto anche la scorsa volta è importante siccome sono bambini piccoli se li facciamo giocare a tutto campo va bene ma noi come feeder se facciamo i feeder come giocatori o comunque se ci sono altri giocatori che fanno il feeder per i propri compagni è importante che i giocatori non siano spostati troppo in profondità quindi se vedete il mio monitor e il mio mouse non sul corrido del fondo campo e neanche troppo vicino alla linea laterale può essere un triangolo che non sia troppo largo ma leggermente più stretto se ci fate anche caso per permettere alla giocatrice che è ancora piccola non è ancora veloce, non è ancora alta, non ha ancora le gambe lunghe, non ha ancora tutta questa esperienza di arrivare bene a rete fateci caso sul suo drop il mio net quanto è alto guardate eh drop vedete quanto è alto il volano è qui perché le do il tempo di venire a rete e poi di andare a colpire il volano ipoteticamente nel punto giusto quindi più o meno all'altezza del nastro vediamo l'impatto del volano ecco vedete ha impattato in questa zona qua a livello del nastro poco sotto il nastro la stessa cosa dall'altro lato ok quindi se vedete c'è il drop e il mio net di nuovo è molto alto adesso si perde nel muro bianco ma è qua ok e interrompo quindi è sempre importantissimo per riuscire a far progredire i giocatori che chi fa il feeder in questo caso io allenatore ma anche i compagni si mettono nei panni di saper far bene il feeder quindi di fare dei colpi anche pilotati, comandati in modo che poi il compagno possa riuscire a giocare perché se poi tu come feeder lavori bene ok è ovvio che lavora bene anche il compagno perché riuscirà bene sul volano e poi è anche ovvio che quando si fa il cambio quindi il feeder diventa giocatore e il giocatore diventa feeder sarà lo stesso giocatore anche a essere spronato a fare bene il feeder al compagno che precedentemente l'ha fatto quindi è un lavoro molto importante ma quello che vi dicevo è appunto un po' il calcolo delle traiettorie del volano quando i bambini sono così piccoli e vi rimetto il campetto quindi come dicevo poco fa è importante che il feeder non alzi qui ok sarebbe troppo lontano un giocatore principiante che il feeder non alzi qui sarebbe troppo lontano è troppo profondo ma anche troppo largo quindi questo non è un triangolo che poi verrebbe bene ma soprattutto farebbe muovere male anche i giocatori l'importante è che i giocatori si muovano in modo agevole sul campo e dipende appunto dalla qualità del feeder quindi un buon lift per il giocatore azzurro con questo caso del feeder deve essere qua ok quindi non troppo profondo ma vedete neanche troppo vicino alla linea laterale la stessa cosa sull'altro lato e anche a rete quando il feeder va a giocare il net è importante che il net non sia così come in questo caso come adesso lo vedete millimetrico vicino al nastro e come fa il giocatore arancione a raggiungere quel net e poi magari giocarebbe uno spin farebbe uno spin da per terra non sarebbe uno spin sicuramente né conveniente né facile da fare ma invece fare un net con una traiettoria molto più alta vicino però alla rete quindi non deve essere una traiettoria alta che è lontano alla rete perché se il volano cade qua lo spin da lontano alla rete è difficile da fare è molto difficile poi far passare il volano se appunto il giocatore arancione si trova qui e da qui deve far passare questo net facendo uno spin la rete è troppo lontana lo spin vi ricordo che va fatto quando vengo a vada col piede del volano sotto il nastro a livello del nastro quando sono tanto così vicino alla rete quindi capite che il feeder ha veramente un'importanza incredibile nel badminton e ha un'importanza incredibile non solo quando si fa feeder con la racchetta anche quando si fa feeder con le mani perché se questo esercizio qua io faccio un passo indietro e quindi prima ovviamente di far sì che il mio giocatore la mia giocatrice faccia lo spin in movimento quindi arrivando da fondo campo magari prima l'ho messa vicino alla rete io con tanti volani, gli tiro i volani e lei fa lo spin diciamo praticamente da ferma o solo eseguendo da fondo è chiaro che prima il colpo si struttura così quindi dal facile e poi al complesso il complesso ad esempio arrivando da fondo campo da il lento perché comunque tira un volano lento vicino alla rete a il veloce dal piccolo ok perché comunque gli chiedo di stare vicino alla rete al grande perché gli chiedo di arrivare da lontano quindi un po' questo deve essere l'idea dal lento, dal veloce dal facile al difficile dal piccolo al complesso e poi con delle variazioni e quindi come vi dicevo magari prima insegno la bambina la bambina a fare lo spin e poi cerco di metterlo in pratica piano piano magari partendo da metà campo e poi partendo dal fondo campo ma sono io feeder che devo dargli bene il volano quindi come vi dicevo anche quando tiro tanti volani con la mano se questa è la rete e io tiro i volani a un metro dalla rete non gli so dando un bel volano per fare spin devo darglielo con una buona trarettore che cada qui poco dopo il nastro e fanno impattare il volano vicino all'altezza del nastro o poco sotto quindi un taglio verso fuori è questo spingi il veloce verso fuori questo è lo spin di diritto verso fuori mentre questo è lo spin di rovescio verso dentro e questo è lo spin di diritto verso dentro in questo caso in questo esercizio Angelica faceva spin di rovescio verso fuori e spin di diritto verso fuori ma la variazione quale può essere la prima variazione quindi che vi suggerisco in questo esercizio è fare spin verso dentro o liberamente la bambina in base anche a come gli arriva il volano lo giocatore come gli arriva il volano se mi arriva troppo lontano dalla spalla è meglio fare uno spin verso fuori anche se posso fare uno spin verso dentro magari di diritto perché non c'è un solo lato di diritto di rovescio questo è il mio lato di diritto ma io di qua potrei anche col dire così di rovescio questo è il mio lato di rovescio ma io su questo lato potrei fare anche degli spin di diritto ma diciamo per comodità più il volano è lontano e più gli spin verso fuori vengono bene vengono naturali più il volano è diciamo nell'ampiezza nella ragazza delle spalle allora vi posso un po' scegliere sia se fare degli spin verso dentro piuttosto che fare degli spin verso fuori cioè diciamo che davanti alle spalle nella ampiezza della ragazza del corpo vale un po' tutto come anche sui drive potrei usare benissimo la padella piuttosto che fare il cambio grip e usare il kill drive con il pollice quindi la prima variazione è quella di sostituire magari gli spin di verso fuori con gli spin verso dentro oppure chiedere da questo lato fai spin verso fuori da quel lato spin verso dentro e vi dicendo e questa è una prima variazione la seconda variazione quale può essere? di evitare di giocare quel net net di rimando quindi vi ricordate l'esercizio drop net facile del feeder spin net del feeder net del giocatore e si rialza quindi evitare quei net net di rimando e disegnare l'esercizio in questo modo drop net spin lift drop net del feeder spin lift è più difficile perché comunque se il giocatore fa un bello spin alzare un buon spin diventa diventa complicato ma anche quello è un allenamento cioè riuscire ad alzare volani che ruotano tramite lo spin e riuscire a alzarli e danni una buona profondità e allora su questa seconda variazione che vi ho dato vi ho già dato le due appunto la prima di invertire o cambiare o sostituire di spin verso fuori con gli spin verso dentro la seconda di evitare di fare net net di rimando e ve ne do una terza che può diventare benissimo una partita una partita molto motivante perché motiva i giocatori a fare bene i colpi e ve la faccio vedere in questo caso sul sul campetto per disegno eccolo qua quindi l'esercizio è sempre lo stesso drop net e spin leviamo net net di rimando ma immaginiamo che il nostro allenatore abbia messo qui una striscia di scusate ha disegnato sottissimo abbia messo una striscia di scotch carta ok quindi immaginate che qui c'è una striscia di scotch carta e da una linea di fondo campo invece di una striscia di scotch carta potrò mettere anche dei coni ok un cono qua e un cono qua in modo che i nostri giocatori visualizzino una specie di linea e si gioca a partita magari si gioca a partita a 5 punti 7 punti 11 punti decidete voi e finito si cambia quindi chiara il feeder va a fare il giocatore ma la partita in questo caso da parte del feeder è un pochettino complicata perché disegnando il nostro triangolo e intanto ve lo vi disegno drop net che va sempre fatto obbligatoriamente alto in modo che il giocatore faccia spin quindi se il feeder fa un net basso corto difficile non vince il punto nessuno perché devono essere partite allenanti le partite devono essere allenanti per cercare di mettere in pratica ok quello che si è fatto nell'allenamento quindi il net facile il giocatore fa spin il giocatore fa spin ecco questo è lo spin vedete che gira e il giocatore azzurro deve rialzare perché mi ha detto che non c'è il net di rimando se il lift oltrepassa questa riga nera bene e si continua lo scambio con drop net e spin e via dicendo se invece il lift è corto oppure è fuori tipo è fuori oppure è corto perché cade qui prima della riga nera il giocatore avancione può lasciare il lift può farlo cadere perché tanto diciamo che non ha superato questa linea e quindi è fuori e vince il punto ecco in questo caso come vi dicevo alleniamo i giocatori a cercare di fare un lift piccolo con un movimento piccolo cercando di non far scendere troppo lo spin ma di non colpire neanche il volano quando sta per girare perché sennò è difficile fare il lift quindi appena il volano dopo lo spin gira e il sughero diciamo è rivolto verso il campo dell'avversario cercare di alzare ma soprattutto cercare di alzare bene un lift abbastanza profondo quindi questa esercitazione che vi ripeto gioca a sette punti un giocatore poi si fa cambio di campo e si fa cambio anche di 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 giocatore spin i giocatori a eseguire lift profondi lift precisi più livello alto e ovviamente e più questa riga che abbiamo disegnato che vado adesso a cancellare può essere spostata addirittura possiamo utilizzare benissimo questa riga qui che è già presente in campi da Bamington che è la linea di servizio per il doppio quindi usiamo questa riga quindi chiediamo al giocatore azzurro che il lift deve cercare di cadere nel corridoio se cade nel corridoio bene il giocatore arancione ovviamente deve colpirlo per mandare avanti lo scagno se cade prima il giocatore arancione può lasciarlo andare e quindi può vincere il punto e io vi ho dato un esempio ma potete voi decidere come si fa punto in questa partita io ad esempio per cercare di allenare i colpi se il giocatore sbaglia lo spin perché ovviamente il giocatore cercherà di fare lo spin perfetto il più preciso possibile vicino all'asta in modo che l'altro valzi male e dico comunque il punto ok viene viene vinto solamente da dopo il lift in avanti quindi anche se lo spin viene sbagliato non è punto per nessuno così si allenano a fare gli spin poi più il livello alto e più gli si dice ok adesso qualsiasi colpo che viene sbagliato anche il drop si perde si perde il punto ma quando il livello è basso è facile che magari sbagliano già il drop e allora si perde il punto si perde il punto la partita finisce subito e tu come allenatore avevi lo scopo di farli allenare il drop gli spin e il lift e non hanno allenato nulla quindi dipende un po' te in base al livello che hai davanti cercare di farli giocare il più possibile sei tu che componi le partite che condizioni che condizioni le partite quindi ad esempio come avevo detto poco fa se sbagli il drop 0-0 sbagli il net il filo sbaglia il net o fa un net troppo vicino alla rete quindi il mio compagno arriva troppo basso non riesce a fare lo spin 0-0 come se lo scambio non fosse stato giocato c'è un buon drop c'è un buon net ok lì parto lo spin sbagli lo spin 0-0 c'è un buon drop c'è un buon net c'è un buon spin il lift ok bene se il lift è andato in campo si continua lo scambio se il lift è uscito se il lift è corto ha vinto il punto il giocatore e questa è subito una riconoscenza che dà il giocatore guarda che il tuo avversario è sbagliato il feeder è sbagliato perché il tuo feeder perché il tuo spin è stato preciso ed è questo che tu vuoi far passare come messaggio al giocatore non aver paura di giocare preciso con gli spin perché è proprio quello lo scopo degli spin far passare il volano vicino alla rete in modo da forzare un lift o cortissimo che poi in partita attaccherai o un lift fuori ok ma ripeto siete voi a decidere come condizionare la partita sta di fatto che se le partite sono sempre solo partite senza delle condizioni che mettono in pratica quello che si è fatto magari mezz'ora prima sul campo o la settimana prima o in tutto l'intero mese i giocatori difficilmente poi in partita mettono in pratica i colpi perché in partita poi pensano a vincere e non deve essere quello l'obiettivo l'obiettivo deve essere quello di cercare di diventare più bravi di mettere in pratica i colpi che sono capaci a fare poi in allenamento ma che in partita poi per x ragioni non usano in primis perché pensano soprattutto al risultato anche se poi magari noi coach siamo bravi a spiegare che il risultato è importante è importante che migliorano ma le partite sono partite tra tutti ok in questo modo li condizionate a giocare meglio le partite e a mettere in pratica i colpi perfetto tanto io vi ringrazio per l'attenzione anche stasera eravate 76 se c'è qualche domanda io ho finito la mia lezione potete alzare la mano che vi facendo il microfono o scriverla in domande e risposte altrimenti vi ricordo che distanti di Bamington torna fra due venerdì vi dico questa cosa anche questa news prossimamente guardate sul sito vi faccio vedere anche dove o arriveranno anche delle mail ma a volte le mail vanno negli spam e se non si controlla le spam poi non si è partecipi di tutte le iniziative guardate qua sul sito dove c'è scritto corsi di formazione ok quindi lo troverete più avanti qui organizzeremo quattro webinar però questi sono pagamenti ve lo dico però webinar che rilasciano anche i crediti quindi quei crediti necessari per mantenere la qualifica per altri due anni dei webinar dove andremo a spiegare e a sfogliare tutti gli ultimi manuali che sono stati redati dalla federazione manuali tecnici sia l'eserciziario vola con il 2.0 sia il manuale tecnico per la formazione dei giocatori sia il manuale per il singolo o per i doppi e quindi un modo per se qualcuno non li ha mai letti per discutere bene su questi manuali e sull'importanza di questi manuali che sono le basi ok come dico sempre di colpi di basi ma sono le basi anche a livello di principi e di tattica per allenare nello stesso caso se siamo allenatori e per i giocatori per riuscire per raggiungere l'alto livello bene se non ci sono domande mi sembra che non ce ne siano vi ringrazio no c'è una domanda di Maurizio Majorano da Rovereto allora il doppio inglese è così il doppio inglese non so perché lo chiamano il doppio inglese probabilmente forse gli inglesi sono stati i primi a farlo ma niente di trascendentale tra l'altro ma il doppio inglese si gioca così abbiamo 4 giocatori quindi un giocatore qui un giocatore qui e un giocatore qui e ognuno è responsabile della sua metà campo ok quindi il giocatore abbrancione della sua metà campo quello azzurro uguale quello viola quello rosa e niente praticamente ognuno gioca per sé e ovviamente tirando il volano dall'altra parte e si gioca a penalità quindi chi ad esempio arriva a 7 penalità quindi 7 sbagli quindi il giocatore azzurro ha mandato 7 volani fuori 7 volani in rete 7 volani sono caduti sul suo campo e non sono stati presi chi ha 7 penalità perde e solitamente poi nel doppio inglese si fa una piccola anche punizione poi ci possono essere delle variazioni del doppio inglese e lì le puoi dare tu ad esempio se ho giocato sul giocatore azzurro quindi il giocatore rosa il giocatore arancione ha giocato sul giocatore azzurro l'altro colpo va fatto sull'altro giocatore quindi ci deve essere un colpo per uno o posso giocare al massimo due volte che sono consecutive su un giocatore e poi devo cambiare lato ma il doppio inglese è classico e come ti ho spiegato prima mentre nel gioco con il volano a terra è un doppio dove ognuno sempre tiene la sua metà campo è responsabile della sua metà campo e si piazza un volano in terra quindi ci sarà il volano in gioco in aria ma questo volano in terra può essere spazzato con la racchetta oppure anche con i piedi calciandolo sul campo di all'avversario poi questo giocatore qui perché no può mandarlo anche su questo campo qui perché ognuno gioca per se stesso e mentre continua a esserci il volano in aria questo volano va spazzato alla fine dello scambio chi ha sbagliato o chi non ha preso il volano in aria prende una penalità e prende anche una penalità chi ha il volano che è stato spazzato per terra sul suo lato quindi può essere che il giocatore viola ha sbagliato perché ha tirato fuori il volano in aria e si è trovato anche il volano in campo quello spazzato per terra quindi prende due penalità e ripeto alla fine vince chi ha meno penalità o chi arriva primo a quelle penalità decise dall'allenatore 7-8-9 perde e questo è appunto il gioco di spazzare il volano e si può mettere anche due volani diventa ancora più dinamico perché devi spazzare due volani per terra ti ho receso il microfono Maurizio volevi dire del doppio in grado sapevo anche chi arrivava a 5-7 penalità un'altra variante esce dal campo e l'altro gioca da solo possibile? si gioca da solo si gioca 2 contro 1 e poi la fine si viene 1 contro 1 e si gioca partita a metà campo o su tutto campo decide l'allenatore e l'ultimo che rimane vince le variazioni come vuoi tu sempre ovviamente perfetto grazie e figurati grazie a te ok allora benissimo se non ci sono allora altre domande forse c'è una domanda qua scritta ah sì qui c'è una domanda di Daniela Daniela ciao Fabio potresti far vedere di nuovo la pagina dove si vede questi corsi sì certo da facer vedere Daniela allora Daniela ma anche per tutti gli altri le comunicazioni a volte arrivano a volte non arrivano a scuola soprattutto non arrivano perché si fermano prima dai coordinatori regionali o provinciali o di educazione fisica o nelle segretarie ma qui se andate sul sito allora questo è il sito della federazione italiana barminton barmintonitalia.it andate giù ok c'è proprio il box la scatola con scritto corsi di formazione quindi esempio per iscriversi in vola con un arancione quindi diventare allenatore di primo livello al corso shuttle time che non ha la qualifica di barminton ma è un antipasto di un corso di barminton un corso per ufficiale di gara adesso vedete qua corsi teacher corsi teacher ok man mano vengono inseriti in vola con noi distanti di barminton ecco quindi qui ci saranno proprio questi questi webinar quindi c'è scritto seminari cliccate di sopra vi iscrivete e se volete potete partecipare ok perfetto allora così ho risposto anche a Daniela bene allora vi ringrazio se non ci sono altre domande ci vediamo allora fra due venerdì tra l'altro il weekend tra due venerdì dei campionati italiani assoluti che saranno a Milano che se volete potete vedere in diretta perché i campi saranno in diretta su youtube della federazione quindi andando su youtube della federazione vedrete che vi si apre il campo live e potete vedere partite sul campo 1 2 3 4 5 6 si inizia venerdì poi sabato si entra nel club della manifestazione e la domenica mattina vengono trasmesse solo le finali che decreteranno il campione italiano assoluto di singolo maschile singolo femminile doppio maschile doppio femminile e doppio misto quindi i 5 campioni delle specialità assolute nel badminton io vi ringrazio buona serata a tutti e a prestissimo ciao ciao